Basta, mi prego, basta, basta, non sopporto più Dio che si facendo un vuoi ballare, ma non è vero, pronti per, non riesco a comprendere, non riesco a, cosa, aia Non sto capendo cosa, cosa succede, calma, vi prego, ferma, metti nel, non riesco a guardare la live, la chat Non riesco a guardare la chat Troppe cose, troppe cose, tutte insieme A quanti bis, sto capendo niente Oh Madonna ragazzi, perché io ho il volume a palla nelle orecchie, quindi mi sento, uuuu, fortissimo Non ho i bis, non ho la chat Uuuu, ma sono tutte persone che hanno scritto Uuuu, the bidello tren is coming, uuuu Va bene Oh, chat ti amo K Tu è un aglio bel stu salvataggio Sì veramente ho fatto un salvataggio con i fiocchi Chat ti amo K Sto soffocando il bidello che ti penetra fortissimo con il manganello Eh sì Chat ti amo K minore di 3 E poi ce n'è uno lunghissimo che è schippo perché lo leggo Scusa in anticipo se non c'entra con la live o se sto disturbando qualcuno Ho scoperto solo da pochi mesi che anche tu come me Hai dei momenti anche se per me durano mesi Mi riesco tuttora a andare oltre A vedere te che riesci a sorridere A rendere felice tutti e rende felice anche un po' me Anche se hai caduto di questo periodo è peggiore delle precedenti Sto cercando di superare questo periodo e spero di riuscire a farlo grazie a te Su possono e grazie per il bellissimo messaggio Spero che tu ti possa riprendere Magari anche grazie alle live appunto Magari anche grazie alle live divertendoti con noi Lo spero tanto e ti auguro il meglio Grazie per essere qua comunque Così impari a dire quelle cose a me K Quindi grazie a tutti per i beats Grazie anche a tutti quelli che hanno scritto E su postone appunto Spero che tu ti possa riprendere e Stare meglio magari anche guardando le live Ok quindi Divertiti in live non pensare a niente Divertiti e basta Ora Io qua cerco di Allora Devo andare nell'ufficio del preside Qui di giù Minchia ma io non mi ricordo nemmeno i tasti Grazie per i cuori ragazzi che gli avete mandato Ok ragazzi dobbiamo andare nell'ufficio del preside Che avevamo già aperto eh Avevamo già aperto Che cavolo di salvataggio hai fatto Non si giudica Non credo che mi abbia visto No dai Vabbè non mi può vedere qua però Non mi può vedere qua Ora noi dobbiamo fare una cosa qua Non mi può vedere Vabbè perché odio questo gioco Vabbè perché odio giocare a questo gioco Non mi sto curando perché almeno se muoio muoio basta No non mi può aver visto dai Ok è qua Ok se ne sta andando Si se ne sta andando ok Dobbiamo andare qua ragazzi E' qua che si va avanti col gioco E' qua che eravamo bloccati Aspettando magari che se ne vada Madonna Ma non è che stiamo giocando a facile E' qui E' sta qui campera Ah è vero è vero è vero Mi avete chiesto di mettere L'audio in coreano Lingua dei sottotitoli Sì lingua dell'audio Ah Coreano cinese Coreano Ok E' vero stiamo giocando facilmente E' il gioco che è posto male Si Oh se ne è andato ok Allora dobbiamo poi fare Vedete allora qua No questo no E' bloccata da un Da un Questo dobbiamo fare Vedi Solo che non ha una logica Solo che non ha una logica Dobbiamo fare questo Ora ci sto provando un po' così random No E' Non si può fare così Quindi userò una guida Perché non capisco assolutamente Il criterio con cui si possa fare Quindi allora Aspetta che qua Metto in pausa va Ah vabbè Non posso Allora White day Walk through Per autistici Questo si Allora vediamo com'è Com'è che li mette Allora aspetta eh Ok allora Questo lo mette così No Così Questo lo mette così Questo lo mette Così E manca solo quello in mezzo Che è Un giro Ok Va bene Ora devo riprendere la chat Ok Voilà Senza senso Vero? Già Ah no Sono tutti e quattro messe uguale Ah Sono tutti e quattro messe uguale Ma non ha senso comunque Vabbè Ok E ora abbiamo Abbiamo la videocassetta Non ha etichetta Ok E si apre anche qua Il manganello della vita Eh Si va avanti baby Il gioco più difficile del mondo Ok allora Andiamo a curarci un attimo Oggetti per la cura No Kit pronto soccorso Pronto istantaneo Usa Sono ancora un po' ferito Mi prendo anche un Un latte di soia Ci mancavano eh Cos'è sta roba? Dai che c'è l'audio in coreano Spero Spero parlino Senza senso Vero Vabbè Comunque era a posto malissimo Ragazzi Mancanello Mancanello Vedete E si scopre finalmente Che c'è qualcosa Là in alto Cosa c'è? Beh vedete Quando nella scorsa parte mia Avete detto Eh devi usare la sedia E salire sopra La scheda I libri Oh dai però Ok Mi avete detto Che devo stare al buio Sto qua Bitello treno Un tv Eh si E si scopre Come salire sulle sedie Ok Forse se n'è andato Però Continuo a sentire Il suo Sospiro Mephistofelico Ok Se ne sta andando Dai che se ne va Oh yeah baby Oh yeah baby Ok Non posso No beh Posso farlo così No si Olè Progressi Indecifrabili Prendi le chiave Uffici insegnanti Due La porta Uffici insegnanti Dell'edificio principale Due Dove cazzo è? Ok Secondo piano sicuro Si Secondo piano Ok bisogna andare al secondo piano Dove sta andando Anche il nostro amico Pututu? Eh un pochetto Quella c'è sempre Ma perché lui è vicino Lo sento Lo sento Favellare Con il manganello Dove potrà mai essere? Se non Al secondo piano Sicuramente Tua sorella Che non sa fare i pompini Madonna Ma lasciami un po' stare Mi ha fatto non vedermi Soprattutto Aspetta Si può Si può fare In teoria Aspetta Tua sorella Tua sorella Dove che non sa fare i pompini Che vergogna Per tua sorella Che vergogna Il fatto che abbia 9 anni È solo un dettaglio No Ho sbagliato Lo strano Ho sbagliato strano Edz Edz Sono dovuto uscire Ragazzi Perché Perché se mi prendeva Lì in quel modo Non Mi ammazzava Non potevo scappare Salve Com'è Ok Mi sono fatto inseguire Perché almeno Sai in quale bagno Sono Se no Poteva sbagliare bagno Se la sorella Di un bidello Che ha 65 anni È strano In effetti Però si È vero Hanno fatto i figli Con 59 anni Di differenza Così Così No 54 No 56 Dai che se ne va Ok Madonna Continuo a girarmi Io Perché è troppo mainstream E mettere L'accucciarsi Sulla C Maledetto Bidello Treno No Dai Oh Lo sto giocando bene Stasera però Eh Non sa contare Pu pure le campanze Cosa sta facendo Lui è lì che È lì che Ravana Nel muro Però Cos'è sta roba Cos'era quel rumore Avete sentito Ma mi son cagato Ma perché sto vedendo Era monchessato Ah Bene 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 Ah ah Ci mancavano questi No no ma Io non vedevo l'ora Di Mettermi qua a giocare E morire E avere la diarrea Già che ho una buona flora intestinale Grazie gioco Mi sentivo quasi in colpa Di avere una buona flora intestinale Grazie Grazie mi dava fastidio Grazie 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 Odio Odio tutto Odio tutto Perché questa cosa Almeno non mi Non mi ammazza però Cazzo puzzo Ok Lui Lui sta lì Lui camper Sempre Ma dai Non mi puoi aver visto Ero al buio Ok Non credo che mi possa vedere qua Raga Dovevo farlo Perché se no Mi bloccava lì dentro Dovevo Dovevo farlo Apri un po' sta merda Porco No dai Ma non metterti Ora a fare le cioncerie Ma non dire Aia che male Aia Sto giocando a facile Sto giocando a facile Non sono capace Non sono capace Non sono capace A giocare a sta merda Uscire un attimo dalla live Per rispondere a un messaggio Tornare e vedere come prima cosa Una cazzo di faccia Di un fantasma Non apprezzo nulla Mi spiace Nicolandi Mi spiace Devo per forza Fare così ragazzi Perché tanto poi Se ne va qua dentro Quindi io non posso farci niente Non posso fare altro Ok È qua È qua che devo essere Vero Ok Ok almeno siamo Nella 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 giusta Ok siamo Nella Nella giusta Chiave Del laboratorio Di scienze Presa Stereo rotto Sicina Da solo Testa cagata Sì Ok Ma mi Ma mi pare Giusto come Sistema di gioco Mi pare una cosa Bella Buona e giusta Facile Come Dark Ma infatti Ma infatti Cioè Non ha senso Cosa cazzo Ho appena raccolto Chiamano Del laboratorio Di scienze Dov'è Dov'è Il laboratorio Di scienze Terzo piano Ok Ora lui Non potrà Mai sapere Che sono andato Al terzo In teoria Però il gioco È fatto male Quindi lui Lo sa Ok Qual è Questo Veloce Stereo che si accende Da solo È creepy Al massimo Vabbè C'è anche di peggio Tipo sto coso È peggio Vedete Ora lui Non può essere qua Cioè Non può sapere Che io sono qua Non può Ora io sto qua A camper Vediamo Ma non può Didam ha giocato A Dark Souls Sì Ho finito Dark Souls 2 Tre volte Però ho giocato Solo al 2 Perché è l'unico Che mi piace Lo so che verrò Odiato e insultato Ragazzi Si chiamano gusti Non odiatemi Please È là comunque Si è vista la torcia Compenetrarsi nel muro Ma noi ce l'avamo Già venuti qua Aiuto Mi sto chiudendo Ma dai Ma dai Cevamo già venuti qua Pezzo di giornale Ma vaffanculo C'è una roba Bene Ma ogni Ma ogni Anemica Sa più o meno Sempre dove Altrimenti È troppo facile Ma Dipende Peso da 100 Un altro peso Ma non è il secondo peso Che tu Eh sì Qua c'è un peso da 1 Qua c'è un peso da 10 Vabbè Mi servirà qualcosa Venire In questo posto No A niente Mi serve Venire qua La chiave Per sto posto Era inutile Oh non c'è niente Dai Non può Non esserci niente Non può Dai Magari c'è qualcosa Sui tavoli Che non vedo No Sotto i tavoli No Ci siamo di nuovo Bloccati Ma bene Scusami Eh sì Ok Guida subito al volo No Non abbiamo tempo Qua da perdere In cincischi Banaggerie Ok Allora Lui nella sala Quella che avevamo fatto Dove siamo poi scappati A gambe levate Cosa fa? Sto guardando la guida Eh ragazzi Nella Sala professori Quella 2 Dove siamo andati prima Ah Dovevo fare una cosa lì Merda Solo che sono scappato Troppo Troppo di corsa Ok Ok Allora facciamo così E facciamo cosà Ok Allora Guida Sfac Ed Ma devo Devo Però se lui sa Sempre più o meno Dove Dove sono io Anche io vorrei sapere Sempre più o meno Dove è lui Almeno sarebbe pari Già che lui No Ovviamente era Là giù Vabbè Io corro Ok Dai 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 Ok Ok è andata Andata Ci ho fatta Non mi stai seguendo Ho imparato Ho imparato Edz Non Ah è questo Va bene Questo 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 Ci deve essere qua un tasto per Fare eject Eccolo qua Eject Ok Nastro misterioso Ecco il video Abbiamo messo audio in coreano Baby Che bello No è terribile Gothic No Grazie per l'info Di 2C Che problema hai Igonà Igonà Rap code Way Hyperlul Way Perché si chiama Takeshi Questo Edificio Trema Ma sta Sojung Cosa tocca Basta Tutto qua Non mi da niente Però Ma Ma non mi serve A niente il video Non mi Aggiunge nessuna ricchezza Non mi Sì ma non mi Non mi ha dato niente il video Pensavo che mi desse una chiave Oh Aspetta che l'asbre luccica Ulala Aha Una spilla Ora sì Che ne ho due Basta Aspetta che L'uomo dal Eh cos'è Eh cos'è questo Posso fare la manina Sui buchi Non so per quale motivo Posso fare la manina Sui buchi E basta Ok Di vecchio Qua intorno Eh Ok A parte che Esatto Videl usa Usa i cheat Vediamo ora cosa Dobbiamo fare Ah lei trema Cade Se ne va Cosa fa lui Apre qua qualche cassetto Esplora Bla 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 Prende la spilla Va qua Cosa che abbiamo già fatto È andato credo Nel laboratorio di scienze Esatto Va nel laboratorio di scienze Ma perché c'è un video Da lui Nel laboratorio di scienze Ma nel suo laboratorio di scienze Parte un video Proviamo a farlo anche noi Forse prima dovevo far scattare Questo video qua Rumori Monca Monca mega Dove Dove sarà lui Ok Vabbè Questo qua è facile Questo qua è facile L'uomo dà dalle mille Perversi Sì ma il vento che sbatte Bene che mi fa paura Ok che piano devo andare Sopra Ok andiamo al terzo ora Ok Ok Andiamo al terzo Con calma Senza farlo Senza far agitare Quell'uomo Ok il laboratorio Dovrebbe essere questo Esatto E dovrebbe partire un video Qua dentro Chi è questa Ma su chi cazzo è sta gente Ah Il bitello treno che sta sempre tutto FUTFACE Cos'è quello zoom Buon dio no Non ti saluto! No, canto io sono la virgine Ha detto ogni... Ha detto la parola QN? Ha detto in 3 yard Ma... Ma... Ha detto con la parola QN... La parola con la n è tryhard Tryhard è sfacco Eh si ha detto Ha detto nigga Ha detto nigga Ma il fantasma compare dal nulla Nigga eh E chi è quella donna? Tryhard Come, come, come bro Come fa ad essere famoso nella scuola un zombie, un fantasma? E se ne vanno in giro così? Il bidello, il treno? Ma non si rende conto che non è umana? Ma non si rendono conto che ha qualcosa che non va? Ma non si rendono conto che ha qualcosa che non va? Ma cosa vuol dire? Ma non è vero qualcosa Come, bro Ma che si deve fare? E loro passeggiano tranquillamente e sfacca, ma infatti male S-a-a-a So-a-a-a Chiesa Chiesa Ma, ma grazie Grazie Se ti corro addosso Non faremo fa niente Dov'è l'aula di musica? Ok Io vado eh Sicura eh Non vuoi che vuoi andare tu? Sto per entrare Sto per entrare Sto per entrare